dopo un bel bagno stiamo rientrando guardate com'è carino labbra illuminata eccolo qua raga allora si chiama dubai marina mall ed è praticamente un centro commerciale molto in qui perché ci sono tutte le marche più famose i macchi più importanti e costosi ora entriamo per vedere effettivamente come ecco qua entriamo e vediamo com'è wow che sfizio guarda tommy guarda in alto guarda quante luci madonna ma quante ne sono naturalmente anche qua c'è pandora io non sono un amante di pandora però mi piace che ogni posto dove vado a prendere un piccolo ricordino eccolo il mio ragazzi nel frattempo si è fatta notte guardate che spettacolo con le luci guardate quanto è carino veramente bello praticamente questa è l'uscita di dubai mall del centro commerciale e si praticamente proprio qui ragazzi i palazzi sono talmente alti che non riesco a farli venire bene nel video guardate questo hotel spettacolo cambia le lucine ragazzi stasera tutto a base di pesce nel ristorante sempre il ristorante dell'hotel c'è anche il sushi guardate che bello girato tutto intorno e ci sono fatta di quanto è buono pesce fresco ora vi lascio e vado a mangiare a seconda per laодazione a seconda a seconda inizio